Ecco a voi Matisse e i suoi cinque cuccioli, di cui due maschi e tre femminucce. Sono nati il 3 giugno e quindi se volete averli da inizio agosto sono disponibili ad avere una nuova famiglia. Questa è una femminuccia. Poi ce n'è uno calimero qua. Adesso hanno solo due settimane praticamente. Se siete interessati contattateci, questa è la mamma Matisse che sta dormendo. Matisse? Sì. Grazie.